... Jason, come va la missione per uccidere Hoyt? Sono più forte che mai. Di a Sitra che la vittoria sarà mia. Non temere. Sono sempre accanto a Sitra. Tira fuori la tua faccia da pocheri, eh? Hai una sola chance. Dai. Lui è Foster. Ah, grazie Sam. Ora fatti una pausa. Tu, siediti. Hai le foto e l'elenco dei traditori? Tieni. Sei stato bravo. Ecco, tieni, festeggia con un bel coiba. Hai dato spettacolo laggiù? No, non fumo. Oh, ti preoccupi del cancro, eh? Bella stronzata. Non sarà un tumore a ucciderti. Sai, hai l'aria di uno che vuole entrare nel mio giro, Foster. Però, io leggo la gente. E tu? Tu sei una molla. Rimbalzi da un lavoro all'altro senza fermarti. Non sono mai soddisfatto. Ah, bene. Sai come faccio ad avere dei dipendenti contenti? Paura. Allora, i miei hobby. Cucina, arte, film, anfetamine. E i tuoi? Vado a caccia. Vado a caccia anch'io. Hai il re dei passatempi. Però io caccio predevere. Se vuoi, ti posso offrire i mercati di schiavi a Rio, Hong Kong, New York. È un'impresa internazionale. La globalizzazione è il futuro. Le cose esotiche ti arrivano direttamente in casa. Guarda l'industria americana. Mettono uno, due e tre sulle lenti a contatto. In questo modo, quando ne metto una, capisco subito se è al rovescio. Perché? Uno, due e tre. E non ABC. È semplice. Perché così la esportano in tutto il mondo fino a me. E che cosa succede quando la indosso? Non vedi l'uno, due e tre. E non è meraviglioso? Questo è il progresso, amico. Questa è la civiltà. Però questo certa gente non lo capisce. Vedi quella barca laggiù? Voglio un riscatto per quella e per i passaggeri. Ma il cliente non vuole assolutamente negoziare fuori confine. Va. Sai, preferisco la versione europea. Gli ottoni delle orchestre americane sono eccessivamente pomposi. E' questo il fulcro di tutto, Foster. Voglio che i miei schiavi arrivino da tutto il mondo. Proprio come le lenti a contatto, sono prodotti universali. Ora, voglio che tu faccia una cosa per me. Giù di sotto ho un prigioniero. Devi cercare di scoprire chi è e chi può pagare per lui. Dopodiché, devi picchiarlo finché non si regge più in piedi. Ti mando anche Sam. Ok. Ah, terro d'occhio la telecamera. Non mi capita mai di vedere un professionista al lavoro. Vai. Ehi. Non deludermi. Le cose si fanno interessanti. Scuttlebutt dice che Vasse è morto. L'ha ammazzato uno. Sono il re del mondo. Dove l'ha trovato, Hoyt? Ci un coincida brovi di vent'anni. Non verrà alla cerimonia per il mio brevetto. Senti, lo sai, tuo fratello è sempre preso con le sue cose. Per di qua. Che succederà? Fallo e Hoyt si fiderà. Credi alle tue bugie? E ricorda? Sorridi. Sei in televisione? Ecco il prigioniero da interrogare. Oh, cazzo. Rayleigh. Tu chi sei? Come ti chiami? Cosa? Il tuo nome! Rayleigh Brody. Chi ti ha portato sull'isola? Mio fratello. E dov'è Jason ora? Dov'è? Non lo so. Pensa che tu sia morto? Per chi lavori? Faccio io le domande! Dove sono i quattro che ha rubato? Merda, non lo so. Voglio solo... Voglio solo andarmene. La telecamera. Se ne starà in loop per trent'otto secondi. Rayleigh. Che... Sei vivo. Ma che cazzo? Ma sei con loro? No, ti tiro fuori. Ok, ok. Dov'è Grant? Non è qui, ma io sì. Ventisei secondi. Ok, ce ne andiamo ora. Nine! Se lo fai, tanto vale sparargli direttamente. Dobbiamo sabotare e uccidere Hoyt. Noi pensiamo alle guardie a Rayleigh. Scappa! Nine! Non arriverebbe nemmeno fuori di qui. Johnny, ascoltalo, ok? Io non posso muovermi di qui. Nove secondi. Devi fargli del male o Hoyt ti scoprirà. Cosa? Cinque secondi. Avanti, fallo. Resisterò, però promettimi che tornerai da me. Non arriverebbe nemmeno. Cosa sono diventato? Basta così. Lascialo. Mai incontrato un giocatore di poker come te? Mi serve un drink. Ehi, sei stato bravo a scoprire il nome. Bastone e carota funzionano sempre. Mi sei davvero piaciuto, ragazzo. Senti, ti voglio giocare a poker insieme a me. Sam, sei invitato anche tu. Se parla di affari... Dimmi solo quando. Non ho impegni. Bene. Splendido. Ti farò dire da Sam dove è qua. Serata poker! Lo voglio. Morto. Ho preparato un bel piano. Disattiviamo la rete di comunicazioni dell'amico Hoyt e facciamo saltare le riserve di benzina. Il gran casino nella sua gestapo ci permetterà di ucciderlo durante la pratita a poker e salvare a Riley. Da si scoti, ya? Sì, va bene. Ya. Raggiungimi alle riserve dopo aver staccato la spina alle comunicazioni. E così... Manderemo in tilti sui scagnazzi, ya?